Da gennaio 2023 attiva la Promoful di Trenitalia, società capofila del polo passeggeri del gruppo FS che consente ai viaggiatori dei treni regionali di avere un biglietto nominativo valido per un intero mese solare con il quale è possibile usufruire di un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia. Promoful può essere acquistata oltre che in Calabria anche nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. Una nuova opportunità per tutti coloro che scelgono il treno per gli spostamenti quotidiani e per svago e turismo nei giorni festivi con tutto il comfort e l'esperienza di viaggio di maniera multimodale e sostenibile. Il titolo di viaggio della nuova promozione è valido dal primo giorno fino all'ultimo giorno del mese solare scelto, non può essere rimborsato e non consente nemmeno il cambio nominativo né cambio di data. Inoltre non è ammessa alcuna riduzione, non è applicabile la riduzione per i ragazzi. La nuova promozione è solo l'inizio di una serie di azioni che la società capofila del polo passeggeri del gruppo FS mette in campo durante il nuovo anno solare, per rendere il viaggio in treno o la soluzione migliore e sostenibile per i propri spostamenti. Acquistarla è semplice, basta collegarsi al sito web trenitalia.com, app Trenitalia e in tutti i canali di vendita Trenitalia.